E' quel punto in cui l'ordine giuridico conosce il proprio limite originario di essere fondato sul nulla. Il fatto che il diritto è posto attraverso la violenza, cioè la violenza politica, e che il diritto conserva dentro di sé questa sua origine, questo suo esser stato posto. Un'altra derivazione che è presente, che nasce dal testo di Benjamin, cioè il concetto di nuda vita. Benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico-politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita, è invece una struttura che spoglia la vita, la rende nuda, la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualcosa di biologico. La nuda vita, e dunque la nuda vita è il prodotto della sovranità decidente. La sovranità, cioè la violenza che pone il diritto, mentre pone il diritto, trasforma la vita in nuda vita. Bios in zoe, secondo Agambo. Una società fatta di individui, tutti alla mercè, come ciascuno, come singolo del potere sovrano. La sovranità taglia le apparente di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna, originaria. cioè individui che chiedono e non possono essere altro che chiedono di vivere e non possono essere altro che trattati come esseri zoologici dei quali si può disporre o allevandoli, mantenendoli in vita o consegnandoli alla morte in vario modo, consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire. E allora qualcuno, nel caso specifico Giorgio Agamben, ha detto bene, abbiamo visto che è stato creato un caso d'eccezione che, come tutti i casi d'eccezione, esprime la verità della norma, cioè la verità dell'ordinamento liberal democratico viene finalmente alla luce in questa circostanza estrema. Il potere che non è ordine ma è essenzialmente disordine tratta i liberali come degli inconsapevoli. Qui Schmidt è fondamentale, cioè chi sono i liberali e sono quelli che non capiscono la teologia politica. Bene, tutto ciò è stato tranquillamente, direi prosaicamente, posto in essere dentro un ordinamento come il nostro, che sotto il profilo della classificazione è sicuramente un ordinamento liberal democratico, è stato posto in essere con estrema semplicità, facilità e direi ateoreticità dai nostri governanti. È il neoliberismo che ha nel proprio DNA la individualizzazione della società, perché la società da molto tempo fa fatica a produrre ordine da se stessa, a produrre forme di aggregazione minimamente stabile, i partiti sono scomparsi, i sindacati sono in agonia da tempo, le forme associative sono effinere sostanzialmente.